Schio è ancora ricoverato all'ospedale Borgotrento di Verona il giovane motociclista ferito dopo essere finito ieri in un burrone in contrada Palladini. Il ragazzo era in compagnia di altri amici verso le 15 e ha perso il controllo della sua moto da cross uscendo per qualche metro fuori dalla carreggiata al di sotto del piano stradale ma concludendo la fuoriuscita sul greto del torrente sottostante dopo un pauroso volo di 20 metri. Impossibile recuperare il ragazzo dal fondo del precipizio con l'elicottero. Le squadre di soccorso dei vigili del fuoco del personale medico del SUEM hanno raggiunto il motociclista tra l'intricata vegetazione e dopo averlo stabilizzato e imbarellato lo hanno riportato sul piano stradale con tecniche speleo alpino fluviali. Solo a quel punto l'elisoccorso di Verona Emergenze ha potuto trasferire il ferito all'ospedale per le cure necessarie.